Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di giornata, primo video di giornata in realtà. Come state? Mi auguro bene, oggi parliamo di Inter. Beh, mi è stata fatta l'accusa, non parlavo di Inter, ma in realtà non parlo tanto della squadra o di vicende calcistico-sportive, ma dobbiamo collegarci a due fatti di cronaca, uno avvenuto nella giornata di ieri e l'altro circa due anni fa, perché ci sono dei collegamenti, per cui mettetevi comodi, prima di iniziare vi invito ovviamente a dare il supporto al canale con un bel like, con l'iscrizione al canale e vi invito a commentare, a dirmi la vostra opinione sotto nei commenti. Questi due fatti di cronaca nera ragazzi hanno scosso il mondo del tifo organizzato dell'Inter, perché sono due fatti di sangue che ci mostrano come la passione per il calcio possa in certi casi essere legata anche a dinamiche criminali e episodi di violenza estrema. In questo caso si parla anche di crimine organizzato, per cui mettetevi veramente comodi perché c'è un bel po' di roba. Due anni fa circa il primo caso che riguarda Vittorio Boiochi, storico capo oltreo dell'Inter, ucciso in un agguatto sotto casa sua a Figino, un quartiere periferico di Milano, per intenderci. Boiochi avrebbe compiuto 70 anni a dicembre di due anni fa, quindi 72 anni circa a dicembre di quest'anno. Era un personaggio noto non per la sua leadership e basta tra i ultra dell'Inter, ma anche per la sua lunga carriera criminale. Comunque aveva un passato importante dal punto di vista della galera e di crimini commessi. Arrestato più volte per rapine, traffico di droga, armi, sequestri di persona. Ma aveva passato circa 26 anni in carcere. Dopo la sua ultima scarcerazione, nel 2018, era tornato a occuparsi attivamente delle dinamiche di gruppo del tifo organizzato dell'Inter, riprendendo anche il controllo della curva Nord. La domanda che molti si pongono è ma perché è stato ucciso un capo oltreo dell'Inter? Beh, a quanto pare, ragazzi, la questione, secondo gli investigatori, il movente dovrebbe essere una sorta di regolamento dei conti. Potrebbe essere legato agli affari criminali più recenti. Boiochi aveva dichiarato di guadagnare illegalmente anche circa 80.000 euro al mese per le varie attività legate allo stadio, tra cui il racket dei parcheggi, la gestione dei biglietti delle partite, quindi il bagarinaggio, eccetera, eccetera. Praticamente due anni fa, prima della partita Inter-Samp, cosa è successo? Mentre la curva si stava preparando a sostenere la squadra durante la partita, arriva la notizia di questa uccisione di questo capo oltra, si è diffusa rapidamente e i tifosi in segno di lutto, gli ultra, hanno obbligato anche chi magari non faceva parte di quel gruppo a lasciare gli spalti, quindi hanno ritirato tutto e se ne sono andati. Un gesto che ovviamente ha creato non poche polemiche perché c'erano delle persone che magari, che ne so, arrivavano dalla poia, eccetera, e si sono fatti tutti di viaggio ad andare via per questo fatto, beh, sicuramente non era una cosa bella e carina. Infatti molti sui social media hanno, si sono lamentati dalla decisione dei ultra, dei leader della curva, eccetera, che avrebbero costretto comunque tutti i bambini, anziani, grandi, insomma tutti, anche chi non era d'accordo, chi voleva rimanere a godersi la partita non l'ha potuto fare, ok? Una situazione che poi ha creato delle tensioni, discussioni, e qualcuno, insomma, ha rischiato le botte serie, se non è che le ha prese pure. Però ragazzi, nella giornata di ieri si è verificato un altro caso, il secondo episodio, che è avvenuto ieri a Cernusco sul Naviglio, sempre zona Milano, e ha sconvolto ancora di più il mondo del tifo organizzato interista, Andrea Beretta. Uno storico capoltrà ha ucciso, con una sua coltellata alla gola, Antonio Bellocco, che era un suo amico e compagno di curva. Bellocco era legato al clan dell'Andrangheta, ragazzi, di Rosarno. Era visto frequentemente nella curva nord, i due si conoscevano da tempo, e fino a poche ore prima dell'omicidio erano insieme in una partita di calcetto, tant'è vero che c'erano delle Instagram stories che li raffiguravano insieme, con altri tifosi anche dell'Inter e del Milano. Che cos'è che ha scatenato questa violenza? Non si sa. Secondo alcune ricostruzioni, in confronto all'interno della Smart, perché si trattava di quest'auto qua, è degenerato e è uno scontro aramato. Bellocco ha sparato a Beretta, colpendolo alla gamba. Quest'altro, per difendersi, ha reagito con una cautellata mortale sulla gola. Le indagini sono ancora in corso, ma è chiaro che questo episodio ha delle radici sicuramente profonde, delle dinamiche di potere nei rapporti interni al tifo organizzato, per cui è tutto un divenire. Gli investigatori stanno studiando, stanno tentando di capire il discorso legato alle infiltrazioni dell'Andrangheta all'interno della curva dell'Inter. Questi due episodi ci mostrano comunque come il tifo organizzato, in particolare le frange più estreme e gli ultra, possono essere comunque coinvolte in dinamiche molto lontane dallo sport. Buio e che Beretta erano tifosi appassionati, ma erano anche figure comunque di spicco, con profondi legami con la criminalità organizzata, parliamoci chiaro. Perché il calcio e in particolare le curve attirano comunque queste figure? Ragazzi, è facile. Se riesci a impadronirti di una curva, hai potenzialmente una fonte di guadagno importante, totale, hai un certo tipo di visibilità e potere, riesci a controllare magari più persone, riesci a trovare degli adepti. Insomma, c'è un'influenza notevole verso certe persone all'interno della curva, che può essere sfruttata per scopi personali e criminali. Fine. È molto semplice. Queste sono le relazioni che si possono instaurare all'interno del tifo organizzato. La morte di Bojocchi e l'omicidio di Bellocco, però, aprono anche una riflessione su come i club calcistici e le autorità dovrebbero gestire meglio la presenza dei propri tifosi. Intanto. Perché se ci sono dei criminali, bisogna cercare di arginarli e rendere il tifo quanto più pulito, perché altrimenti si sporca la passione per il calcio. La cosa che mi chiedo io è come mai queste cose, quando sono successe alla Juventus, mi interrogo ancora, quando c'è stata l'inchiesta Alto Piemonte venivano sbattute veline fuorvianti oltretutto, perché le società in questo caso sono in genere le vittime, perché sono sottoposte a pressioni, sono sottoposte a ricatto, sono sottoposte a mille situazioni. Io mi chiedo perché la procura di Torino indagava con puntualità per quanto riguarda la questione Juve e l'inchiesta Alto Piemonte con le infiltrazioni dell'Andrangheta all'interno della curva, con tutti quei daspo, con la repressione feroce che poi è stata attuata nei confronti della curva, che insomma a volte mostra insofferenza per la non presenza degli striscioni. Adesso qualcosa si è ricucito nel rapporto, però diciamo che non è un rapporto così tanto idilliaco, parliamoci chiaro. e vi chiedo perché lato Milano non c'è stato tutto questo tam-tam mediatico, perché io non ho visto ragazzi che ne so, Filippo Roma col microfono andare lì a chiedere a qualcuno, perché non ho visto le puntatone di Report su questi due omicidi e sui legami che ci sono tra questi personaggi e la curva nord dell'Inter, perché non si parla mai di veline, di quello che viene fuori dalla società su questa vicenda, come è stato fatto alla Juventus. Queste sono le cose importanti su cui dobbiamo interrogarci. E magari ragazzi la procura di Milano in realtà sta perfettamente analizzando le cose e non sta facendo uscire nulla come dovrebbe fare un paese civile. Però io mi chiedo perché certe cose accadono a Torino e in altri parti no. Questa è la domanda reale, perché magari a Milano le cose si fa bene e a Torino male, e allora dobbiamo porci delle domande perché a Torino le cose si fanno male. Ci sono queste le domande concrete. Questi due omicidi magari sono delle dinamiche interne che poco hanno a che fare col gioco del calcio e anzi dovrebbero essere tagliate fuori per il bene di tutti i tifosi, anche di tifosi dell'Inter che sono i nostri eccellini rivali. Però c'è quella parte sana con cui discuti al bar, l'amico, avrete un amico interista con cui discutete al bar. Ecco, non è un amico che ha secondi fini criminali nel tifare Inter, ok? Però quando succedono queste cose e vediamo un'assenza di tantam mediatico, di articoli di giornali anche con titoli forti, Inter e Camorra, cosa c'è dietro la cura? Non c'è nulla, non c'è nulla di tutto ciò. C'è riportato solamente il fatto di Cronaca, giusto, come giusto dobbiamo riportare, però ricordo che quando morì quel tifoso che si suicidò dal viadotto di Fossano, eccetera, ci fu un casino nero. Fu messo in mezzo alla Juve. Juve, Marotta, i rapporti con l'Andrangheta, quando Marotta era evidentemente sottoricato da parte di alcuni tifosi. Cioè, da noi veramente hanno fatto passare le peggio cose, questa cosa la stanno raccontando bene. Detto ciò, io non mi interrogo sul perché a Milano non escono certe cose. Intanto la prima domanda, stanno indagando, punto di domanda, se sì, è giusto che non escano le cose. Per cui se stanno indagando, ed è questa la domanda, stanno indagando, la procura sta effettivamente indagando, i giornali dicono di sì. Prendiamo per buono questa cosa. Allora è giusto che i giornalisti non facciano emergere nulla. Che si faccia un'indagine nel modo più blindato possibile, si arrivi a un dunque e poi si vada avanti con tutto l'iter giudiziario, chiamando, insomma, processo chi ha delle potenziali responsabilità, a difendersi, eccetera, seguendo quel liter. Ovviamente senza avere queste, questi ficcanaso, le veline che vengono passate dalla procura, eccetera. Invece a Torino si è scatenato il circo, il circo totale, la procura che passava le veline, quelli là che andavano a, ovviamente a, a riportare tutto, anche fatti privati, magari, legati a chiesa. C'è l'intervista di Cherubini su chiesa, che dice, il suo entourage pensa solo a, quello era un qualcosa che è stata stralciata fuori da quell'indagine là della procura di Torino sull'inchiesta legata alle plusvalenze, eccetera, ok, da una intercettazione ambientale è stata tirata fuori questa roba qua e però era un qualcosa che non aveva nulla a che fare. Cioè, io non vedo questo trattamento dal punto di vista mediatico con i confronti della squadra Inter. Non vedo una procura che passa di Milano delle veline ai vari giornali mettendo in crisi la società Inter, magari, o chi che sia. Io non vedo tutti questi atteggiamenti che sono atteggiamenti, secondo me, giusti. Non li vedo. E io mi chiedo perché a Torino accadono però queste cose e perché è concesso che queste cose accadano. Quindi, due sono le domande che dobbiamo porci. La prima, a Milano stanno indagando, sì, se abbiamo questa certezza siamo tutti sereni e tranquilli. Bene, perché comunque a livello mediatico stanno coprendo bene la situazione in procura, stanno evitando la fuoriuscita di notizie, la fuoriuscita di intercettazioni. Però io mi chiedo perché a Torino invece accade il cerico totale sotto i occhi di tutti e anziché andare a puntare il dito contro quell'atteggiamento, anzi, a livello mediatico cerchiamo anche di dare risalto a tutto ciò che esce in maniera illegale. Ecco, queste sono le domande che dobbiamo fareci. queste sono domande serie e dato ciò mi auguro che tutto quello che è successo attorno all'Inter si risolva nel più breve tempo possibile perché non è possibile che nel 2024 ci sia ancora questo marciume tra i tifosi. Per chi è un appassionato vero qua non si tratta di tifo Juve, Inter, eccetera. Poi loro ci hanno dato contro perché immediaticamente gliel'hanno presentata di merda. perché se avessero presentato le cose nel modo giusto anche gli interisti avrebbero capito che la Juventus in quel momento era sottoricato da parte dei propri tifosi e che non c'erano dei legami perché questa è uscita a livello ordinario. Ok? La giustizia è ordinaria. Vi mando un forte abbraccio aspetto le vostre riflessioni e sempre fino alla fine Forza Juve! Forza Juve! Grazie.